Ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria coronavirus perché c'è un nuovo balzo dei contagi nella nostra regione dopo i 23 di ieri. Oggi sono 24 i nuovi casi accertati insieme a quello di ieri e uno dei dati più alti registrati negli ultimi tre mesi. Aumentano gli attualmente positivi che sono 313, 30 pazienti più tre rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale, 280 in isolamento domiciliare. Tra i nuovi positivi giovani e giovanissimi almeno sei tra i 18 e i 23 anni. Nessuna guarigione recente perché il totale è fermo a 2843. Bilancio delle vittime fortunatamente invariato a quota 472 da inizio emergenza. Infatti non si registrano decessi dallo scorso 28 di luglio. Dei 24 nuovi casi, 8 riguardano pazienti domiciliati o residenti in provincia dell'Aquila, 5 nel Chietino, 7 nel Pescarese, 3 nel Terramano e 1 fuori regione. 5 casi a Sulmona, 4 a Dortona. Si tratta di cosiddetti casi start emersi da screening territoriale e non tra i contatti di persone già malate. Altre due ventenni sono positivi in un paese del Terramano in cui era già emersa la positività di tre giovanissimi. Elemento comune sarebbe una cena a cui avrebbero partecipato anche persone di altre regioni. Tra i più giovani, i risultati positivi, c'è anche un 18enne di Pescara. E dunque questi sono i dati. E tra l'altro c'è l'appello del professor Grimaldi, che è il primario di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, che dice che per la prima volta in questi giorni le aree interne, finora poco colpite perché rispettose delle regole, non mete di grandi traffici, stanno superando quelle costiere. Nell'Aquilano c'è una riemergenza, soprattutto per alcuni focolai, come in Valle Peligna, legati ad un aumento della vita sociale. È necessario l'uso delle mascherine e non abbassare la guardia, dice Grimaldi, che dunque lancia questo appello al rispetto delle regole. L'infettivologo continua dicendo che il virus continua a circolare, non è scomparso anche se i contagi non sono eccessivamente elevati, i numeri non sono allarmanti, ma questo, dice sempre Alessandro Grimaldi, lo dobbiamo al lockdown dei mesi della emergenza, anche se il coronavirus è presente e in questa fase sembrerebbe circolare tra pauci sintomatici o asintomatici. E questa condizione lo rende difficile da individuare. Dunque queste le parole di Grimaldi. Proseguiamo con il nostro giornale. Con il segretario della CGL Abruzzo Carmine Ranieri abbiamo fatto il punto sulle questioni più spinose che riguardano il lavoro, a partire dalle due grandi vertenze di quest'estate, la Betafence di Tortoreto e la Yokohama di Ortona. Ma tra le priorità del sindacato c'è anche la riapertura delle scuole, secondo Ranieri, con misure anti-covid in forte ritardo. Ascoltiamo un estratto dell'intervista che vi abbiamo già proposto nella diretta del TG6 delle ore 14. C'è l'emergenza sanitaria, ma nella nostra regione c'è anche un'altra emergenza, l'emergenza occupazione, l'emergenza lavoro. Tante multinazionali stanno lasciando l'Abruzzo e le conseguenze sono drammatiche. Sì, ci troviamo già da qualche anno, un processo di impoverimento della nostra regione con multinazionali che dopo aver lavorato, occupato persone per molti anni e fatto utili nella nostra regione decidono di abbandonarla. Da ultimo i casi della Betafence di Tortoreto e il caso della Yokohama. Sono multinazionali tra l'altro che stanno ancora macinando utili, hanno tutti gli indici economici in regola, cioè fanno utili, ma hanno deciso di andare via dall'Abruzzo soltanto per loro calcoli di strategia e di delocalizzazione. La Betafence, siamo preoccupati, la loro produzione dovrebbe essere spostata in Polonia e così via. Noi crediamo che tutto questo sia inaccettabile. Nel mese di settembre ci saranno sia per la Betafence che per la Yokohama due importanti tavoli di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro due tavoli che sono stati convocati in videoconferenza, ma noi crediamo che sia utile un confronto, seppure con tutte le regole di sicurezza, un confronto viso a viso. Il primo sviluppo che voglio immaginare è quello di un ripensamento delle due grandi multinazionali. Questo è il primo passaggio. Dopodiché la cosa importante è sempre che non vi sia la chiusura degli stabilimenti produttivi. Su questo il Ministero dello Sviluppo Economico, a partire dai due interlocutori, cioè dalle proprietà, dal fondo di investimento di Betafence, sappiamo che Betafence fa parte del gruppo Presidium che a sua volta è gestito dal fondo di investimento Carline, stessa cosa per la Yokohama. I due investitori decidano, ritornano nei suoi propri passi e restino qui. Dopo l'attivazione da parte sia del Ministero dello Sviluppo Economico che della Regione Abruzzo, dell'assessorato alle attività produttive, a creare quelle condizioni perché vi sia sviluppo di queste realtà. Stanno arrivando e possono arrivare tante risorse, risorse europee, risorse del ricovero found nella nostra regione. Dobbiamo intercettarle e utilizzarle nella maniera migliore per creare un sistema, quello abruzzese, che è un sistema che ha fatto scuola anche negli ultimi anni. Ricordiamo che comunque l'Abruzzo è la regione più sviluppata del sud Italia. Ecco, ricreare, riporre in essere quelle condizioni per lo sviluppo della nostra regione e per attrarre il lavoro. Tra tre settimane, usiamo il condizionale, dovrebbero riaprire le scuole anche nella nostra regione, in Abruzzo, in Molise e tutte le regioni del nostro paese. Segretario, il Ministro dice che i sindacati stanno facendo un po', diciamo per conto l'ora, un po' criticato le critiche dei sindacati che hanno detto che è difficile in questo momento pensare ad una riapertura delle scuole il 14 settembre. È così? Siete fiduciosi? Oppure potrebbe slittare la prima campanella? Ma innanzitutto noi dobbiamo ribadire che per noi è importantissimo riaprire le scuole e riaprirle nei tempi dell'anno scolastico. Tutti noi crediamo che la scuola non possa essere fatta a distanza, non debba essere fatta a distanza, bisogna riaprire le scuole perché è importante per il futuro dei nostri figli. Detto questo, il Ministro non può rifugire dalle proprie responsabilità e su questo ha anche lo stesso governo nazionale. Pensiamo che sulle scuole si è partito molto in ritardo, si è deciso di investire soltanto un miliardo di euro su quello che è un settore primario di fondamentale importanza appunto per la riapertura delle scuole. Siamo in forte ritardo, chiediamo, abbiamo chiesto con forza l'assunzione dei docenti, docenti che tra l'altro sono nella forma di precariato già da molti anni dentro le scuole con delle procedure veloci, snelle che potevano garantire il personale e ovviamente vogliamo che i nostri alunni entrino alle scuole in sicurezza. Tutto questo, dobbiamo dire, si sta facendo spesso male e in ritardo e da questo le nostre critiche al Ministro, ma che sono le critiche tese a stimolare che veramente si faccia. Sentivo ieri le dichiarazioni del Ministro, stiamo già lavorando da alcune settimane, beh forse bisognava lavorare da alcuni mesi e da qui le nostre critiche. Adesso una notizia di cronaca, un uomo di 39 anni è disperso da questo pomeriggio intorno alle ore 14 nel lago di Barrea. Era su un gommone con i figli di 9-10 anni quando è scomparso nelle acque del lago nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo in provincia dell'Aquila. I tre erano sul gommone appunto quando l'uomo è finito in acqua, non si sa se sia caduto oppure si sia tuffato per fare il bagno. Comunque non è più riemerso, una persona avrebbe assistito alla scena e si sarebbe gettato in acqua portando in salvo il figlio di 10 anni che annaspava nel lago. L'altro bambino invece avrebbe assistito atterrito da sopra il gommone. Le ricerche delle giovani papà sono in corso sul posto, come vedete anche da queste fotografie. Ci sono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i carabinieri di Alfedene e Castel di Sangro, il nucleo operativo e il radiomobile, l'elicottero del 118 dell'Aquila, ai Vigili del Fuoco con altre due imbarcazioni. Probabilmente il 39enne è rimasto impigliato sul fondale e per questo non sarebbe più riemerso. Il lago artificiale infatti è roccioso e molto insidioso. La zona dove si sono concentrate le ricerche è quella del camping Colle Ciglio, punto dove l'acqua è molto profonda. Voltiamo pagina adesso. A pochi giorni dal quarto anniversario del primo dei terremoti che hanno colpito il centro Italia, il commissario straordinario Giovanni Lenini ha fatto il punto della ricostruzione annunciando tre nuove ordinanze. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Tre nuove ordinanze sulla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e quello del 2017 le ha annunciate il commissario straordinario Giovanni Lenini. Le ordinanze prevedono la riorganizzazione della struttura commissariale, introducendo la separazione tra la gestione e il controllo della ricostruzione, definiscono i contenuti dei programmi straordinari di ricostruzione e disciplinano ex novo l'affidamento della progettazione e dei lavori che riguardano le chiese. Tra due giorni ricorrerà il quarto anniversario del primo dei terremoti che sconvolsero il centro Italia e oggi Lenini fa il punto sulla ricostruzione, ponendo l'accento anche sulla ripresa economica. Noi usciamo da sei mesi prima di blocco totale per il Covid e poi di forte rallentamento, o meglio di ripresa lenta, quella che stiamo vivendo. Questi mesi, emergenza sanitaria che si aggiunge all'emergenza sismica, post-sisma che ha determinato una situazione di gravissima difficoltà per il cittadino e le imprese dei territori delle quattro regioni. Adesso definiamo i contenuti minimi, anzi i contenuti essenziali di questi programmi e soprattutto variamo linee guida molto avanzate, molto innovative, ben strutturate, che costituiscono un atto di cosiddetta soft law, di indicazioni ai comuni, agli uffici speciali. Poi attenzione per gli altri è un ordinato svolgimento della ricostruzione e una qualità della ricostruzione. Dobbiamo smetterla di dire che c'è sempre qualcosa che manca. No, ci sono le norme, ci sono le procedure, ci sono le risorse, ne serviranno altre di risorse e io ho già chiesto e chiederò insieme a tutti quanti voi, gli attori della ricostruzione, che una quota del recovery fund sia destinato a rendere questi territori più attrattivi, a essere connessi, a realizzare paesi intelligenti, paesi, città sicuri e connessi. Se noi in questi territori nel ricostruire garantiremo sicurezza e connessione con infrastrutture materiali, le strade digitali, questi territori nei prossimi anni potranno guardare con maggiore fiducia al futuro. Si sono chiuse a mezzogiorno le liste ufficiali dei candidati in corsa alle prossime amministrative del 20 e 21 settembre per 61 comuni abruzzesi chiamati a rinnovare i propri consigli. Sono oltre 187 mila i cittadini chiamati alle urne a fine settembre. Le sfide più importanti sono sicuramente quelle di Chieti, 51 mila abitanti, unico comune capoluogo di provincia al voto nella nostra regione, e Avezzano che conta oltre 40 mila abitanti. Unici due comuni tra l'altro in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio il 4 e 5 di ottobre. Comunque vediamo insieme i servizi che fanno il punto sulle amministrative di Chieti e poi sugli altri comuni. Il dado che determinerà il futuro di Chieti è oramai tratto. I giochi sono fatti per le amministrative del 20 e 21 settembre. Oggi a mezzogiorno infatti è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste e si entra ora nella tranche finale della campagna elettorale. Sono cinque coloro che aspirano alla poltrona di sindaco del capoluogo teatino. Paolo De Cesare, 28 anni, è il più giovane tra i candidati, erede dell'importante imprese edile di famiglia, ha già ricoperto incarichi in Ance e Confindustria e fa parte del consiglio d'amministrazione del Marrucino. De Cesare è sostenuto da quattro liste civiche. Luca Micone è il candidato del Movimento 5 Stelle, 40 anni, è l'ideatore di una start-up nel campo paramedicale. Micone è stato il primo dei pentastellati non eletti nelle scorse amministrative e può contare su una squadra completamente rinnovata perché i consiglieri grillini uscenti hanno scelto di non ricandidarsi. I 5 Stelle vanno avanti senza alleati. Il voto sulla piattaforma russo, tramite cui i militanti del partito hanno aperto le porte ad alleanze territoriali, infatti è giunto troppo tardi per rimettere tutto in discussione. Fabrizio Di Stefano, 55 anni, addetta dei sondaggisti, sarebbe il candidato favorito. Viene da tollo e fa politica da quando era solo un ragazzino. È stato eletto due volte in Parlamento e dopo essere stato glissato da Marsilio come candidato del centrodestra, presidente della regione e ora scelto come primo cittadino di Chieti da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e due liste civiche. Bruno Di Iorio è invece l'outsider, sostenuto da un polo civico di cui fanno parte anche Italia Viva ai forzisti ribelli capeggiati dall'assessore regionale Febo, che però si sono spogliati dal simbolo di partito. 60 anni, Di Iorio è medico di famiglia e un tifoso sfegatato del Chieti Calcio. La sua è una candidatura destabilizzante, addetta dello stesso Di Iorio, che infatti ha già provocato non poche frizioni in seno alla maggioranza in regione. Diego Ferrara, dall'alto dei suoi 66 anni, si aggiudica il titolo di candidato sindaco più navigato e l'unico tra i candidati a sedere attualmente nel Consiglio Comunale di Chieti, in cui è stato eletto tra le schiere del Partito Democratico. Anche lì, medico di famiglia, è sostenuto da quattro liste, imponendosi come candidato del centrosinistra, a cui però non dispiacerebbe, per sua stessa ammissione, trovare una quadra coi 5 Stelle. Camillo Carapelle, invece, numero uno di una lista tutta scalina, ha deciso di ritirarsi dalla corsa verso la fascia tricolore. Non significa però che non avrà ruolo in queste elezioni, infatti ha già annunciato pubblicamente il proprio sostegno a Diorio. In tutto coloro che aspirano a un posto in Consiglio Comunale sono oltre 600. In quanto Chieti supera i 15.000 abitanti, è uno dei comuni dove è previsto il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Insomma, è concreta la possibilità del ballottaggio, che si terrebbe il 4 e il 5 di ottobre. Tra i comuni non capoluogo di provincia in Abruzzo, sicuramente la sfida più interessante è quella per la conquista del comune di Avezzano, commissariato da oltre un anno dopo la prematura caduta del sindaco di centrodestra, ora in Forza Italia, Gabriele De Angelis. Anche nella città marsicana, come a Chieti, il centrodestra corre diviso. La Lega, infatti, ha indicato quale candidato il suo segretario provinciale, il quarantenne imprenditore Tiziano Genovesi, appoggiato da 5 liste. Lega, per l'appunto, Fratelli d'Italia, Udc, Cambiamo il futuro, è la lista del sindaco. Ma il nome di Genovesi non è riuscito a riunire intorno a sé tutte le anime di destra, così Forza Italia, con la regia del sindaco uscente De Angelis, ha scelto un'altra strada, quella della candidatura della docente presidente di Aciam, Anna Maria Taccone, che sarà sostenuta da 4 liste, 3 civiche e, appunto, Forza Italia. Sempre nel centrodestra, l'outsider è Antonio Del Boccio, ex fratelli d'Italia, ufficiale della Polizia provinciale, che corre con le liste civiche Civiltà Italiana e Io per Avezzano. Torna a correre per Palazzo di Città, anche Gianni Di Pangrazio, con una proposta civica che guarda sia a destra che a sinistra. Già sindaco di Avezzano dal 2012 al 2017, cerca nuovamente la scalata, la fascia tricolore, dopo essere stato sconfitto proprio da De Angelis nelle elezioni del 2017. Gianni Di Pangrazio, fratello dell'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe, sarà sostenuto da ben otto liste, con numerosi ex amministratori, ma anche esponenti del mondo delle professioni. Si tratta di Avezzano città-territorio, Avezzano libera, uniti per Avezzano, riformisti per Avezzano, azione civica per Avezzano, Io sto con Avezzano, patto per la Marsica e Avezzano al centro. Ma per la corsa a sindaco c'è anche l'ex consigliere comunale, nella maggioranza di Di Pangrazio, e poi all'opposizione Mario Babbo. Avvocato e regbista, tenterà la vittoria alla guida di ben sei liste, prime delle quali il Partito Democratico e la Renziana, Avezzano viva, più quattro civiche. Infine c'è il docente Nicola Stornelli, che guiderà la lista Avezzano bene comune, ispirata da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. La terza città al voto, in ordine di importanza, in base alla popolazione residente, è sempre nella Marsica, si tratta di Celano. Oltre ai 10.000 abitanti è governata da 20 anni dal centro-destra, è feudo dell'ex parlamentare, prima in Forza Italia, poi nel PDL e poi passato all'NCD Filippo Piccone. Il sindaco uscente Settimio Santilli tenterà di ricevere il suo secondo mandato, appoggiato da Lega Forza Italia e lista cambiamo. Se la dovrà vedere con Giosualdo Ranalletta, imprenditore del settore del contact center, alla testa di una coalizione civica che sarà appoggiata anche dal centro-sinistra e da dissidenti della Lega che non hanno gradito la ricandidatura di Santilli. Spostandoci in provincia di Chieti, la sfida più pesante è quella a Guardia Grele, circa 9.000 abitanti. Sarà una corsa a tre, tra il primo cittadino uscente, Simone Dal Pozzo, avvocato di 46 anni, di area di centro-sinistra, a capo della lista Guardia Grele, il bene in comune, Donatello Di Prinzio, geometra di 52 anni, consigliere comunale di area di centro-destra e Gianna Di Crescenzo, con la lista Guardia Grele per tutti. In provincia di Teramo la sfida più attesa è quella di Montori Alvomano, comune con oltre 8.000 abitanti, che torna al voto anticipato a causa della rovinosa caduta a maggio del sindaco di area di centro-destra, Ennio Facciolini. A candidarsi è Eleonora Magno, appoggiata dal Partito Democratico, dal Partito Socialista e dai progressisti. Nel campo del centro-sinistra pesca anche la civica di Alessandro Di Giambattista, ex sindaco. Il centro-destra, a sorpresa, si ricompatta dietro l'ex assessore della regione Lombardia, Fabio Altitonante, che ha deciso di essere della partita nel suo paese di origine. Dopo l'entrata in vigore del decreto che prevede in Italia l'obbligo della mascherina dalle 18 nei luoghi affollati, anche a Pescara verranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine, il capologo Adriatico, un po' il cuore della ammovida nella nostra regione. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Masci, controlli in città come in tutto il paese per quanto concerne l'ammovida, le mascherine da indossare dalle 18 fino alla mattina dopo, ma vogliamo spiegare bene cosa significa e questi controlli a cosa devono portare, perché c'è anche un po' di confusione in molti cittadini. Sì, noi ci troviamo in una fase delicatissima. Dopo i tre mesi di lockdown abbiamo avuto un periodo in cui il contagio si è abbassato, drasticamente ridotto, quasi azzerato e in qualche modo abbiamo allentato quelle che erano le precauzioni. Oggi che sembrerebbe tornare in qualche modo il virus, anche per i contagi di persone che vengono da fuori o che tornano dalle vacanze, è il caso di stare attenti. Questo non vuol dire allarme, vuol dire allerta, vuol dire utilizzare i dispositivi di protezione individuale, mettere in campo quelle precauzioni minime, ma che servono per tenere lontano il contagio da noi. Quindi mascherine da indossare quando i rapporti sono troppo ravvicinati, il distanziamento fisico e sociale, la pulizia che è fondamentale e tutte queste precauzioni devono essere messe in campo proprio per evitare che il virus possa tornare e possano esserci delle espansioni di contagio. Noi per quanto riguarda l'amministrazione comunale abbiamo cominciato anche un'opera di prevenzione, ci sono delle macchine con altoparlanti che avvertono i cittadini e informano i cittadini sui comportamenti da mantenere, poi il Comitato per la sicurezza pubblica preseduto dal prefetto con il questore, con il Sindaco e con tutte le forze dell'ordine, ha deciso di intensificare i controlli dalle sei del pomeriggio in poi, come prevede il decreto del Ministro della Salute, quindi in questi giorni ci saranno sicuramente più controlli, soprattutto nelle zone in cui è più facile l'assembramento, quindi parliamo delle riviere, parliamo della zona della Movida, dei via Cesare Battisti, di Piazza Salotto, di Piazza Musi, parliamo della zona del centro storico, ecco sono tutte le zone dove c'è la potenzialità di un assembramento, ci saranno i controlli, quindi mi raccomando indossate le mascherine perché un controllo potrà comportare una sanzione anche di 400 Euro, quindi manteniamo i comportamenti basici per evitare contagi e per evitare sanzioni, perché così sicuramente possiamo vivere più serenamente e più tranquillamente e tenere lontano il virus. Controlli a tappeto sui cittadini residenti nella provincia di Chieti di ritorno da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. L'ASL Lanciano Vasto Chieti intensifica la ricerca dei casi positivi al Covid-19 attivando una postazione tamponi drive-in all'ospedale di Ortona nell'area adiacente il laboratorio analisi. Vediamo il servizio. Controlli a tappeto sui cittadini residenti nei comuni della provincia di Chieti di ritorno dai paesi a maggiore rischio Covid-19. L'ASL Lanciano Vasto Chieti intensifica la ricerca di casi positivi in vista dei rientri dai luoghi di vacanza attivando una postazione tamponi drive-in all'ospedale di Ortona nell'area adiacente il laboratorio analisi. Un'equip del 118 sarà presente dalle 9 alle 19 e dal lunedì 24 a sabato 29 agosto per consentire di eseguire il prelievo nasofaringeo senza scendere dall'automobile ai residenti nel territorio di competenza della ASL di ritorno da Grecia, Croazia, Malta e Spagna. Il test è gratuito, non richiede impegnative ed è riservato a quanti non siano stati intercettati in aeroporti e porti dove vengono sottoposti a controlli i passeggeri in arrivo con voli e traghetti di linea dai suddetti paesi. Pertanto i vacanzieri che abbiano usato l'auto, imbarcazioni private o fatto scalo in aeroporti in altri paesi potranno eseguire il tampone nella postazione mobile di Ortona. Basta esibire il titolo di viaggio e un documento che attesti la residenza in uno dei comuni della provincia di Chieti. L'iniziativa mira a rafforzare la sorveglianza sanitaria secondo le direttive previste nell'ordinanza del ministro Speranza del 12 agosto scorso che prevede l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico dal momento del rientro in Italia o al massimo entro 48 ore perché ha soggiornato o transitato nei quattro paesi che fanno registrare un numero molto atto di casi positivi al coronavirus. Per le persone in attesa di eseguire il test e fino al momento dell'esito è prevista la misura dell'isolamento fiduciario nella propria abitazione. Obiettivo della ASLE in questa fase di crescita dei contagi è identificare il maggior numero possibile di casi positivi e isolarli tracciandone i contatti al fine di contenere al massimo la diffusione del contagio. Per questo la direzione dell'azienda sanitaria invita tutti i cittadini che arrivano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna a cogliere l'opportunità offerta dal tampone Drive-In che facilita l'accertamento della eventuale positività e lancia un particolare appello ai genitori affinché i loro figli facciano il test visto che i giovani in questa fase sono la categoria più colpita dal virus. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, la apriamo parlando di calcio e di Serie B e dunque del Pescara. Massimo Oddo sembra il nome più caldo per la panchina del Delfino nella prossima stagione nel campionato cadetto ma la società non ha ancora deciso a chi affidare la guida tecnica della squadra dopo la salvezza all'ultimo respiro proprio contro il Perugia guidato dal trainer pescarese. Intanto per quanto riguarda il mercato il Pescara ha chiuso per il 2002 Alessandro Arlotti. Vediamo il servizio. Cartello dei lavori in corso in casa Bianca Azzurra dopo aver conquistato la soffertissima permanenza nel torneo cadetto in riva all'Adriatico dirigenti abruzzesi dovranno ora sciogliere il nodo allenatore considerando che fra una settimana prenderà il via la preparazione precampionato. Entro 48 al massimo 72 ore è prevista la tanto attesa fumata bianca. Sembra Massimo Oddo il favorito al momento per guidare la squadra che giocherà in Serie B. L'ormai ex tecnico del Perugia sarebbe davanti ad Andrea Sottil e ad un altro poker di allenatori quali Stellone Bucchi, Colantuono e Di Biagio. L'ex tecnico della Spalle dell'Under 21 ieri era stato a pranzo con il presidente Daniele Sebastiani ma in una conviviale già prevista da tempo e in cui si è parlato di calcio ma anche di altro e della comune passione per il paddle. Il tempo però stringe e fra poco i tifosi biancazzurri conosceranno così il nome del nuovo tecnico del Pescara. In questi ultimi giorni però a tenere banco in città sono anche i rumors che riguardano la società con il patrone pescarese che sarebbe impegnato ad allargare la base societaria e in ultima ipotesi accedere il pacchetto di maggioranza delle quote azionarie. Voci ma al momento nulla di concreto con eventuali novità previste non è l'immediato. Sul fronte mercato chiusa invece un'operazione in entrata dalle giovanili del Monaco e arrivato l'attaccante Alessandro Arlotti classe 2002. Adesso scendiamo di categoria ma restiamo tra i pro. È ufficiale l'arrivo di Massimo Paci sulla panchina del Teramo, oggi il raduno dei biancorossi e poi inizieranno gli allenamenti prima individuali e poi collettivi ma adesso c'è anche da pensare al mercato. Il servizio di Jacopo Forcella. Da ieri sera è ufficiale Massimo Paci raccoglie l'eredità di Bruno Tedino prima e c'è Teodimascio poi e diventa il terzo allenatore delle Raiachini a Teramo. Contratto di un anno con opzione per il secondo per l'allenatore originario di Porto San Giorgio che oggi avrà il primo incontro con la formazione biancorossa. Il neo allenatore sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni agli organi di informazione, sarà accompagnato nella sua esperienza abruzzese dal vice Roberto Guana e dal preparatore atletico Riccardo Cantarini. Il gruppo squadra nel rispetto delle prescrizioni poste dal vigente protocollo sanitario si sottoporrà i test sierologici da ripetere dopo 14 giorni e dal primo ciclo di tamponi ogni 4 giorni direttamente presso l'impianto di Piano Daccio. Tutte le sedute precampionato in programma si svolgeranno dunque a porte chiuse al Bonolis. Si comincerà con allenamenti individuali fino alla seconda serie di tamponi che anticiperà l'avvio delle sedute collettive. In mattinata ci sarà l'ultimo ciclo di visite mediche per i calciatori biancorossi. Ancora non è noto il calendario delle amichevoli, ma lo ha officializzato Iachini nella conferenza stampa di giovedì mattina. Quello che è certo è l'amichevole contro il Napoli di Rino Gattuso il prossimo 4 settembre alla Patini di Casteldisangro, sempre a porte chiuse. Da adesso in avanti però sarà tempo di mercato e di scelte. Innanzitutto si comincia dalla vicenda che riguarda i contenziosi. 12 giocatori reclamano il pagamento degli stipendi Covid. La società non vuole riconoscerli e si andrà al collegio arbitrale. Se durante questa situazione qualcuno dovesse trovare una soluzione alternativa, il Teramo non ostacolerà la partenza. E a proposito di uscite, la voce Mungo Avellino è confermata, ma si è trattato per il momento solo di un primo contatto tra gli Irpini e i Biancorossi, che per ora non ha portato ad una trattativa vera e propria. Il Teramo conta di poter fare cassa, ma solo con qualche giovane, che però per regolamento servirà e come. Ecco perché si valuterà l'eventuale addio di qualche elemento che l'anno scorso ha deluso, nonostante le premesse fossero ben differenti. E soprattutto c'è la concreta possibilità che uno o tutti e due, tra Cianci e Martignago, rientrati dai prestiti con Carpi e Alessandria, possano avere un'opportunità di riscatto. Tra poco più di un mese scatta il campionato e tempo non ce n'è tantissimo. Il diavolo prova ad accelerare i tempi per permettere a Paci di avere una squadra competitiva per un torneo che già da adesso, riforma o non riforma. Si preannuncia molto duro. È tutto per questa edizione del TG6. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Se volete un'demanda ci sono i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di buon proseguimento con la nostra programmazione.